All'incirca due settimane fa, su Reddit, è comparsa una teoria molto interessante ad opera dell'utente Perona 77. La coppia di marito e moglie che già avevano sorpreso tutti con le teorie sulla reale storia dietro a Final Fantasy XV. Questa particolare teoria, se di teoria si può parlare vista la mole incredibile di fatti a sostenerla, è derivata tutta dal Dungeon Piteos. E si sviluppa tutta attorno ai molteplici simbolismi che troviamo all'interno di quel luogo. Simbolismi dati da statue, oggetti, musiche e ogni singolo particolare di quel Dungeon che è stato studiato maniacalmente dalla coppia Perona 77. Proprio per via del principio del simbolismo, questi due matti hanno analizzato ogni singolo oggetto trovato nel Dungeon per provare la loro tesi. E diavolo se ci sono riusciti! Io personalmente cercherò di farvi un riassunto su quella che è la lore che emerge da tutto questo, senza dilungarmi troppo nei particolari che altrimenti potrebbero risultare tediosi. Non è proprio il mio stile quello di essere tedioso. Però vi invito a leggere il topic originale sul Reddit, per dare pieno credito a chi se lo merita e per verificare voi stessi quanto ogni singola cosa di quel Dungeon ci porta a ciò che vedremo alla fine del video. Link naturalmente in descrizione. Ma basta chiacchiere introduttive, sedetevi comodi e preparatevi a farvi esplodere il cervello con questo video di lore su Final Fantasy XV. Anzitutto vediamo di capire cosa è Piteos. Questo Dungeon è un'antica rovina della civiltà di Solheim, esattamente come altri Dungeon che troviamo a Lucis, come ad esempio la tremenda Costlemark. Ma c'è un ma! Solo la prima parte di Piteos è in effetti costruita da Solheim. Infatti proseguendo nel Dungeon, sia l'architettura che i materiali muteranno drasticamente, lasciando spazio al caos più totale. E c'è un motivo! Piteos infatti è stata abbandonata e in seguito qualcuno ha scelto questo preciso luogo per costruire quella che a tutti gli effetti è la rappresentazione del suo viaggio, della sua storia. E questo qualcuno, signore e signori, è Ifrit. Quindi sì, Piteos narra la storia di Ifrit e di come abbia cercato di salvare Ios, la dea dell'Aurora, addentrandosi nell'Underworld, la terra dei morti, gli inferi, per liberarla dalla sua prigionia, diventando così il traditore, almeno agli occhi delle altre divinità. Piteos, lo ripeto, è solo la rappresentazione di questa tragedia, in pieno stile greco. Del resto Final Fantasy XV ha fortissime ispirazioni dall'antica Grecia. Gli eventi narrati qui, quindi, si svolgono altrove, nell'Underworld appunto. Ma vedremo anche questo più avanti. Cominciamo dal principio. Entrando nel dungeon, noteremo due statue. Una a sinistra, rappresentante Titan, che blocca un portone con una mano e sorregge un pilastro con l'altra. Il portone è l'ingresso dell'Underworld, mentre il pilastro rappresenta il mondo. A destra, invece, imprigionato e assorto nei suoi pensieri, c'è Ifrit. Capiamo perfettamente che è lui, perché il suo aspetto ci ricorda tantissimo l'Ifrit di Final Fantasy Tactics e i molti gioielli che ornano il suo corpo sono gli stessi che ha Ifrit nello scontro finale alla cittadella. Gioielli ornamentali, inoltre, che hanno da sempre, a livello di mitologia, ornato il corpo di questa divinità. La gabbia è probabilmente una metafora del fatto che Ifrit è imprigionato, bloccato nei suoi pensieri, per capire come passare. Ma poi lo capisce. Mentre proseguiamo, infatti, nel dungeon, sbloccheremo una sfera, una meteora, se vogliamo, che libera Ifrit. Forse è l'idea stessa della meteora liberarlo da quello stato. Per cui questa prima sfera è puramente una metafora. Passiamo poi sulle sue spalle, come a dargli il testimone. E da qui, infatti, sarà il suo punto di vista quello che vivremo. Un'altra meteora che questa volta colpisce in pieno Titan. Nella realtà, il gigante era in effetti bloccato da una meteora al centro di Duskae, che gli impediva qualsiasi movimento, come ad esempio bloccare Ifrit dall'entrare nell'Underworld. Infine, un'altra meteora apre il passaggio per l'Underworld. E nella realtà, questa seconda meteora è all'Estallum. Quindi l'ingresso, il varco per l'Underworld, si trova proprio lì. Ed ecco spiegato il perché nella centrale elettrica di l'Estallum fuoriescano sempre dei demon. Non perché la piaga delle stelle viene dal meteorite, ma perché filtrano dal passaggio sottostante. Ci sono forti possibilità che nel DLC di Gladio, il nostro compagno viaggi proprio nell'Underworld. Lo vediamo con Core all'interno del crepaccio di Telpar. È infatti probabile che quando Ifrit esce dall'Underworld, lo faccia proprio in quel crepaccio. Quindi Gladio potrebbe percorrere i passi di Ifrit al contrario. Infatti dov'è che rincontriamo Gladio nel gioco? Proprio alla centrale di l'Estallum. Sopra il meteorite, che apre il varco verso l'Underworld. Interessante, non vi pare? Ma andiamo avanti. Adesso, entrando dal portone, la musica cambia e diventa quella dei dungeon. Come a dire che adesso siamo entrati in Piteos. Se infatti prima l'architettura era tipica di Solheim, come vi dicevo prima, adesso siamo circondati da strutture molto strane mai viste prima. È la costruzione di Ifrit da qui in avanti. C'è un globo che rotea con un'apertura dalla quale dovremmo passare cadendoci dentro. Il globo è il pianeta stesso, e il varco che ci porta in profondità verso l'Underworld è Ifrit che penetra nel pianeta. A un certo punto da un'altra statua di Ifrit si riesce a scorgere la statua di Ios. Non perché riuscisse effettivamente a vederla da quel punto, ma per simboleggiare il suo pensiero fisso. Ifrit era infatti innamorato di Ios, e pensava a lei mentre sprofondava sempre di più negli inferi dell'Underworld. Considerate che l'Underworld è pieno di demon, è da qui che vengono. E gli oggetti curativi e protettivi che troviamo lungo il percorso rappresentano magie curative e protettive che Ifrit casta su se stesso durante il suo viaggio, mentre combatte appunto contro di loro, qui rappresentati con quelle state circondate da quell'alone di energia rossa. Lo stesso che compare attorno ai demon quando fuoriescono in superficie. Più avanti troveremo Ifrit a riflettere davanti alle porte dell'Underworld. È in profondità nel pianeta, ma non è ancora entrato realmente nel mondo dei morti. È illuminato da una luce rossa, che simboleggia ciò che prova. Violenza, rabbia, passione. Nella sua mano un oggetto, il Prone Antennae, un particolare gambero che viene creato dal mostro Carlobos. In Final Fantasy V, Carlobos è a guardia di un grande fiume. Una volta sconfitto nel quinto capitolo di questa saga, gli eroi riuscivano a passare il fiume tra mille difficoltà con una barca. Tutto questo simboleggia che Ifrit ha dovuto lottare contro questo mostro. E vittorioso, l'oggetto nella sua mano ce lo fa capire, è riuscito a trepassare uno dei fiumi dell'Underworld. Pensate un po' all'Underworld come all'Inferno Dantesco. Fiumi, porte e una discesa sempre più ripida negli abissi del caos. Ciò che affrontiamo in seguito, infatti, è molto caotico e rappresenta le difficoltà nell'attraversare questo fiume, esattamente le stesse difficoltà che avevano incontrato gli eroi del quinto capitolo di Final Fantasy. Infine arriveremo ad uno switch circondato da spine rosse, rappresentanti la lava presente nel sottosuolo. E finalmente la vera porta per l'Underworld si apre, e qui troveremo il Doomstrain, il treno del destino che traghetta le anime dell'Underworld. Il Doomstrain, infatti, in Final Fantasy, corrisponde alla figura di Caronte, il traghettatore di anime dell'Ade, che attraversando un fiume ci porta all'interno del Regno dei Dannati. Interessante che troviamo delle monete antiche in questa stanza, e come sappiamo le monete erano un lobolo da pagare per il passaggio di Caronte. Una volta oltrepassata questa stanza, siamo ufficialmente nel Regno dei Morti, il punto di non ritorno. Infatti da qui ci sarà impossibile tornare indietro, e perfino Noctis nota questa cosa, dicendo, oh no, devo tornare indietro, devo tornare indietro. Qui tempo e spazio non esistono, è puro caos. Un'architettura che la gente di Solheim non avrebbe assolutamente potuto costruire. Questo posto è totalmente permeato di magia, è quindi palesemente opera di Ifrit. Ed eccola che appare, Ios. Da dove riusciamo a vederla troviamo un bracciale di rubino. Per migliaia di anni i rubini sono state pietre associate all'amore e alla passione, altro indizio che ci fa capire i sentimenti provati da Ifrit nei confronti di Ios. Dopo tanto caos, finalmente riusciamo a raggiungerla. Ed eccola, davanti a noi finalmente, Ios, la dea dell'aurora. Ifrit è riuscito a raggiungerla. Man mano che ci avviciniamo a lei, l'intera stanza inizia a roteare. Questo simboleggia i sentimenti contrastanti e la disperazione di Ifrit nell'avvicinarsi ad Ios. Perché in lei c'è qualcosa che non va, qualcosa che Ifrit non si aspettava. È giunto fin qui per salvarla, ma l'ha trovata in catene e non sembra più essere lei. Ragazzi, da qui in avanti cacciate fuori la confezione di Kleenex perché la storia di questo amore diventa davvero, davvero triste. Una volta raggiunta la statua, saltiamo sul suo petto a simboleggiare l'abbraccio di Ifrit. La caduta all'indietro molto lenta a simboleggiare che la libera dalle sue catene, appoggiandola dolcemente a terra. A questo punto, se scendiamo verso il suo ventre, troveremo l'oggetto più importante del dungeon a livello di simbologia. I guanti Genji. Genji significa due inizi e considerate che troviamo i due inizi sul suo ventre. Ios era incinta, di due gemelli. Ed ecco perché è stata imprigionata dagli altri dei. Forse si era innamorata di un umano ed era rimasta incinta. Si sa, per le divinità è un tabù mischiarsi col sudicium indegno degli umani. E considerate che nella mitologia la dea Ios ha proprio due figli con un umano. E non tutte le divinità simpatizzano per la nostra razza del resto. Si sa, il simpatico discorso di Leviathan ad Altissian è un chiaro esempio. E i figli di Ios? Nati forse proprio nell'oscurità di Piteos. Lo ying e lo yang. La luce e l'ombra. Ci sono varie teorie su chi potessero essere, ma pensandoci bene viene logico pensare che siano coloro che hanno dato il via uno alla dinastia dei Lucis e l'altro a quella dei Nox, che tradotto letteralmente è luce e tenebre. I Nox Flore vivono a tenebre, i Lucis Celum vivono a Lucis appunto. Niente ragazzi, io non riesco neanche a chiamare la teoria da quanto è palese. Un'altra teoria altrettanto plausibile è che uno di questi due figli potrebbe essere Ardyn. E suo fratello quindi Zunia? Ricordiamo che sono gemelli, quindi probabilmente identici. Ecco perché il re incoronato nella copertina della cosmogonia è identico ad Ardyn, pur non essendo lui? Boh, forse il posizionamento di Ardyn all'interno di questa faccenda è ancora difficile da capire e in verità non ha fondamenta concrete. Ma torniamo a Piteos. Dopo aver raggiunto Ios procediamo in caduta libera e la sensazione che si ha quando si cade così è quella stessa stretta allo stomaco che si ha quando ci si rende conto di essere in estremo pericolo. Perché è questo che prova Ifrit, che si è appena accorto delle condizioni di Ios. Ios, la dea dell'aurora, la luce, è stata imprigionata negli abissi dell'Underworld, nell'oscurità più pura, perché la luce la blocchi con l'oscurità. Il sadismo beffardo degli dei aveva colpito ancora. Ma ciò che non avevano previsto è il cosa sarebbe scaturito dal sopprimere la luce con l'oscurità. Ios si era ammalata, il suo corpo stava bruciando corrotto dall'oscurità. E il risultato, amici miei, è la piaga delle stelle. E questa piaga stava iniziando a colpire anche Ifrit, che inizia a questo punto una corsa disperata verso l'uscita dell'Underworld, tentando in tutti i modi di salvare Ios e se stesso lungo il tragitto, che da qui in avanti, anche a livello di level design, sarà sempre in salita. E pieno di oggetti curativi, a simboleggiare la lotta disperata per la sopravvivenza dei due. C'è addirittura un oggetto che protegge contro il fuoco, ma quale fuoco potrebbe danneggiare l'infernale Ifrit? La piaga delle stelle, appunto, che corrode e brucia anche oltre la fiamma più ardente. Perfino nell'artwork Big Bang di Amano notiamo che Ifrit, mentre porta in braccio Ios verso l'alto, verso la salvezza, è completamente bruciato. E nella cieca oscurità e nella disperazione più totale prosegue la nostra ascesa verso la superficie. È buio, ragazzi, non ci sono altro che strade senza uscita davanti a noi. I muri impregnati di quel viscido liquido nero, che altro non è che la piaga delle stelle, che ormai sta permeando il luogo, contaminando tutto con l'oscurità. La situazione si fa sempre più disperata man mano che si sale. Troviamo una clessidra d'oro, a simboleggiare che non c'è più tempo. Ios sta morendo. Di nuovo dal punto di vista di Ifrit vediamo uno spiraglio di luce, un passaggio. Finalmente riusciamo a salire verso l'uscita, forse. Il crepaccio di Telpar originariamente non era un crepaccio. Nel gioco lo dice chiaramente che è stata opera di Ifrit. Prima, infatti, era una caverna, il tunnel che percorriamo, lo spiraglio di luce in fondo ad esso, l'uscita. Ma no, altri vicoli ciechi. La vede la luce, ma non riesce a raggiungerla. E allora, in un ultimo atto di disperazione, apre lui un'uscita verso la superficie. Ed è così che si crea il crepaccio. Infine, la salvezza. No. Purtroppo dobbiamo ricordarci che è dalla tragedia greca che questo gioco trae la sua più grande ispirazione. E una tragedia è tale in quanto alla fine non vi è salvezza, solo disperazione. Ciao ragazzi, la prima parte di questo video finisce qui. La seconda parte uscirà a breve. Non so se già domani è al posto del vlog oppure lunedì alle 15. In ogni caso, mettete un mi piace qua sotto se vi è piaciuto il video, condividetelo con tutti quelli che conoscete, così da far crescere questa community sempre di più. E se non l'avete già fatto, ovviamente iscrivetevi al canale. Appuntamento quindi a domani alle 15. Gianè! A domani alle 15.